Uno spettacolare incidente stradale ma fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato nella tarda mattinata di oggi nella zona dell'aeroporto di Fano poco dopo le 12.00. Alla base di tutto una mancata precedenza da parte di un SUV che poi è stato centrato da un camper che ha innescato così una disastrosa carambola che lo ha portato ad invadere la corsia opposta dove l'auto è stata violentemente tamponata da un compattatore di una ditta che opera per conto dell'asset. Fortunatamente visti anche i danni riportati dal mezzo poteva anche andare a finire peggio invece il conducente della Dacia Duster che non ha dato la precedenza un uomo di 49 anni residente ad Urbania se l'è cavata per così dire con un codice giallo col quale è stato trasportato al pronto soccorso di Fano dal 118 che è intervenuto sul posto. Nessuna conseguenza fisica ma solo danni al camper invece per i due turisti tedeschi che erano al suo interno marito alla guida e moglie al lato passeggero di 50 anni in transito per le vacanze che stavano percorrendo via Mattei in direzione aeroporto mare che giunti all'incrocio con via Platani non hanno potuto evitare l'impatto con il fuoristrada. Stessa cosa per gli occupanti del compattatore che si sono trovati sotto il muso del camion all'improvviso per la calambola impazzita l'auto che è stata da loro violentemente tamponata incastrandola così tra il camper ed il mezzo pesante. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'auto alimentata a GPL e la pattuglia dell'infortunistica della polizia locale di Fano che è stata coadiuvata nel regolamentare la viabilità da una volante del commissariato e da una pattuglia della guardia di finanza di Fano.